Benvenuti o bentornati su Glasses Giraffe. Oggi vedremo insieme come si usa il dizionario. La mia scelta è ricaduta sul De Mauro della Paravia, che era il dizionario che avevo già a casa, che, come potete vedere dal focus, è un dizionario abbastanza spesso, abbastanza lungo, abbastanza voluminoso. È un dizionario della lingua italiana, edito da Paravia. Andremo a vedere, praticamente, oggi come si usa il dizionario, quali sono i trucchi all'interno del dizionario, quali possono essere le informazioni all'interno del dizionario stesso, e, soprattutto, in che contesti lo possiamo usare. Iniziamo dai contesti. Il contesto è un contesto chiaramente didattico, perché io, con la mia quinta, ho iniziato a fare delle vere e proprie sfide a tempo di ricerca dei termini sul dizionario di lingua italiana. Chiaramente la classe userà una riduzione, quindi c'è una sorta di dizionario semplificato, con, magari, un po' meno lemmi di questo qua. Quindi è anche più portabile, in questo modo la cartella non peserà troppo. Oppure lo possiamo usare durante le lezioni, magari, di storia, di scienze, di geografia, quando abbiamo a che fare con un genere specifico o con un lessico specifico, e, in questo caso, magari, non riusciamo a sapere tutto il significato delle parole. Arriviamo, adesso, a come funziona il dizionario. Allora, sapete bene che, per conoscere il dizionario, devo conoscere l'ordine alfabetico. Queste saranno le parole, tutte le parole, coordinate dalla A alla Z. Quindi, se io devo cercare una parola che inizia con la T, quando apro il dizionario mi dovrò già trovare vicino a dove può esserci la T. In questo caso, ho sbagliato perché siamo sulla G. Però, di certo, non inizierò da qui, perché se io apro, vedete, siamo sulla C. Quindi, per prima cosa, ci sono dei dizionari che, sul loro dorso, hanno, ad esempio, la scalanatura delle lettere. Sono dei dizionari più facili da consultare. In questo caso, invece, non c'è, però posso, come vi dicevo, orientarmi a seconda di quanto questa parola è più vicina o più lontana a una lettera di riferimento. E' chiaro che la B, la B, la cercherò qui, la Z, la cercherò qui, ok? Poi, come funzionano? Tutte le parole sono messe in ordine alfabetico. E su questo siamo molto d'accordo. Io, per semplificare questo video, ho già, praticamente, messo un segnalibro che potete trovare lì. Quindi, adesso andiamo a vedere che parola c'è. Allora, attenzione, nella pagina di sinistra, va bene, io troverò in alto a sinistra una parola, arcivescovado, mentre in alto a destra ne troverò un'altra. Attenzione, le colonne sul dizionario funzionano in questo modo. Ci può essere un sistema a doppia colonna o a quattro colonne. Questo è un dizionario, come dicevo prima, da adulti e quindi utilizza il sistema a due colonne. La prima parola in alto a sinistra sarà la prima parola che troviamo su quella colonna. Infatti, arcivescovado, c'è arcivescovado anche sotto. In questo caso, invece, area, che corrisponde all'ultima parola del dizionario, va fino in fondo e quindi, praticamente, corrisponderà a questa parola qua. Quindi, nella colonna in alto alla mia destra, invece, avrò l'ultima parola, ok, che io riesco a trovare. Attenzione, poi che altre informazioni mi dà questo dizionario? Mi dà la divisione in sillabe, ad esempio. Quindi, se io ho un dubbio su come andare a capo con una determinata parola, dizionari di questo calibro, di questa, diciamo, grandezza, riescono a darci anche la divisione in sillabe utilissima, sia per lo spelling, sia, appunto, per andare a capo. Poi, avrò tutte le informazioni, ad esempio, area, non è casuale che io abbia scelto questa parola, perché è veramente una parola importante. È un sostantivo femminile, però io avrò vari, 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 vari significati. Più è ampio il dizionario, più magari avrò dei significati anche che possono riguardare il mondo dei bambini, il mondo dello sport, come ad esempio in questo caso vi dice che lo sport, area piccola, area di rigore, quando si parla, ad esempio, di calcio, va bene? Quindi l'area di rigore, se mi fanno fallo all'interno dell'area di rigore, chiaramente io andrò a dover battere un rigore, avrò una sorta di regalo, va bene? Se invece, ad esempio, il significato appena sotto è area di servizio, quindi lungo le strade e l'autostrada è uno spiazzo attrezzato per il rifornimento di carburante. Quindi non solo mi servirà il dizionario per scoprire come si divide in sillabe o come si scrive o che cos'è una determinata cosa, ma soprattutto mi potrà dare più di un significato. Attenzione, sotto arci vescovado, poco sotto c'è arco, che è anche questo un sostantivo, scusate, maschile, però può essere varie cose, perché può essere l'arma da caccia e da guerra, oggi usata come attrezzo sportivo, ad esempio, tiro con l'arco. Però può avere anche un significato figurato, quindi essere un periodo di tempo, uno svolgimento, una durata, l'arco di una giornata, un breve arco di tempo. Come sinonimo potremmo dire un breve lasso di tempo. In questo caso, poi, se noi continuiamo, abbiamo arcobaleno. L'arcobaleno primario e l'arcobaleno secondario. Attenzione, da non confondere con l'arcobalestro, che invece è una macchina d'assedio, costituita da una balestra montata su un cavalletto. Quindi è molto divertente anche giocare con le parole, scoprire fra di loro quali sono delle parole magari simili, che non conoscevamo. Quello che stiamo facendo noi in classe adesso è utilizzare il dizionario per arrivare a conoscere il lessico specifico di una determinata disciplina oppure quando siamo magari in dubbio sull'uso, sulla capo o sul significato di una determinata parola riusciamo praticamente ad avere tutte le nostre risposte. È per questo che, a mio avviso, iniziare dalla terza primaria a cercare le parole può di gran lunga aiutare quella che è la nostra didattica in classe e anche i compiti, insomma, per casa.